Ciao a tutti e tutte, è il 24 aprile e intanto vi voglio augurare buon 25 aprile. Quella è una buona data, la data della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo ed è teniamocela stretta, è la cosa buona. E invece poi c'è la cosa negativa ed è il vertice di ieri che hanno fatto i capi di Stato, il vertice su cui i 5 Stelle e il PD cantano vittoria dicendo che avrebbero ottenuto una cosa incredibile. Io ho passato la mattinata a cercare di capire quello che hanno ottenuto di incredibile e la cosa delirante è che siamo alla conferma di quanto deciso nell'Eurogruppo, cioè nella riunione dei ministri economici all'inizio di aprile, se non ricordo male il 9 di aprile. Nel senso che ci sono le stesse cose, il SURE, questa cosa per la Cassa Integrazione, c'è la Banca Europea degli Investimenti che presterà dei soldi alle imprese e c'è il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Tutto assieme fa 540 miliardi, sono tutti soldi da restituire, tutti, e certamente sono soldi da spartirsi, in particolare sul SURE arriverà pochissimo all'Italia. Cioè stiamo parlando di qualche decina di miliardi, molto meno di quanto è già impegnato il governo italiano. Quando parlano di 200 miliardi, 240 miliardi della Banca Europea degli Investimenti, è praticamente la metà per tutta Europa di quello che il governo italiano ha deciso di fare per le aziende in Italia, cioè stiamo parlando di cifre ridicole e saranno cifre non solo sottodimensionate brutalmente, appunto 2.000 miliardi gli Stati Uniti, qui siamo alle ciafrosaglie, ma da restituire. E sono tutte cifre che saranno da restituire e che finiscono nei bilanci degli Stati producendo deficit e debito. E quindi quando i parametri europei saranno rimessi in funzione a pieno regime bisognerà fare le stangate per abbattere il deficit e il debito pubblico che nel frattempo sarà salito. Cioè è un disastro. Si dice sì, ma questa è solo la prima parte e poi ci arrivano i recovery bond. Siamo alla stessa situazione dell'inizio di aprile, cioè che c'è la promessa di farli. C'è una discussione lì non chiara su come si finanziano, che non è una cosina da poco, e se vanno restituiti o meno col fatto che è già sicuro che almeno una parte dovrà essere restituita. Cioè stiamo di nuovo parlando di una cosa che intanto arriverà in ritardo, perché il governo italiano chiede che vengano fatti subito, ma intanto non sono stati fatti nemmeno stavolta. E poi ci saranno le riunioni, e poi l'eurogruppo e avanti, e poi dal primo di luglio la presidenza dell'Unione Europea e della Germania che fisserà il calendario. E visto che la Germania ha già detto in tutte le salse che un ulteriore intervento lo si farà solo sul bilancio 2021 dell'Unione Europea, e questo l'ha accettato anche il governo italiano, cioè che si userà il bilancio del 2021, stiamo parlando di quello che avverrà tra mesi e mesi, ma il problema è che è la crisi adesso. E allora io credo che bisogna dire con chiarezza che quello che stanno dicendo i 5 Stelle e il PD sono, diciamo così, tra la pura propaganda e la presa in giro degli italiani, non è un'altra cosa. Questo non vuol dire che hanno ragione quelli di destra. Quelli di destra cambiano posizioni ogni cinque minuti, fanno parte di quelle organizzazioni che a livello europeo sono le più contrarie a fare un ragionamento comune, tant'è che l'ultima posizione che hanno assunto adesso la Fratelli d'Italia e la Lega è quella di usare la Banca Europea, come chiediamo noi da sempre. Ma la cosa che non dicono Fratelli d'Italia e la Lega è che se nel Parlamento Europeo hanno voluto sostenere questa posizione hanno dovuto votare la nostra mozione sul punto che faceva l'emendamento su questo, perché i loro gruppi sono tutti contrarissimi e quindi i fascisti e i leghisti per poter votare il fatto che sia la Banca Centrale Europea di intervenire, in Parlamento Europeo hanno dovuto votare la mozione dei comunisti perché altrimenti non la potevano votare ma questo non lo diranno mai, ne lo dirà mai nessun telegiornale. Ma appunto qua siamo, un governo che non è in grado di fare la trattativa e che vende come enormi risultati, dei risultati miseri e del tutto al di sotto della necessità e dall'altra un'opposizione che semplicemente pianta casino sostenendo un giorno una cosa, l'altro giorno il contrario basta di sparare dentro il governo. Ma ripeto, qua il problema vero è che siamo alla pura propaganda. Allora io penso che di fronte a questo la posizione che noi abbiamo sostenuto e cioè che deve intervenire la Banca Centrale Europea non solo si presenta come l'unica adeguata ma diventa veramente l'ultima chance che abbiamo anche perché, faccio notare la Banca Centrale Europea un passo positivo l'ha fatto nelle settimane scorse ha detto che metteva 1.150 miliardi diciamo per lavorare a tenere bassi gli spread sono pochi ma intanto è già una cifra è poco, va raddoppiata almeno ma è già una cifra e due o tre giorni fa la Banca Centrale Europea ha detto che avrebbe preso come diciamo così titoli a garanzia dei prestiti che fanno le banche private anche titoli diciamo che vengono considerati spazzatura ha detto brutalmente e questo per permettere alla BCE di dare i soldi alle banche ma perché ha fatto questo? perché tutti pensano che in questo casino ci siano dei titoli di Stato tra cui quelli italiani che finiranno così in basso quotati così in basso dalle agenzie di rating da risultare titoli spazzatura e allora la Banca Centrale Europea si è portata avanti e ha detto guardate noi continuiamo a finanziare ugualmente quindi la Banca Centrale Europea veramente ha fatto una cosa sensata qui noi chiediamo di fare l'altro mezzo passo cioè che invece che continuare a discutere di robe che non avverranno mai e se avverranno dovendo restituire i soldi finendo dentro i debiti degli Stati e avanti non funzionano che si dica politamente che qui c'è bisogno all'intervento della Banca Centrale Europea che è l'unico per dimensioni per il fatto che non bisogna restituire i soldi e per il fatto che non finisce ad aumentare il debito e i deficit dello Stato l'intervento della Banca Centrale Europea è l'unico che può permettere di affrontare la situazione senza finire in un disastro pazzesco in cui la crisi economica sarà molto peggio dei danni del coronavirus perché farà più morti la crisi economica così come viene avanti se non è fronteggiata che non quella che ha fatto il coronavirus e allora io vi voglio chiedere questo noi avevamo fatto questa petizione europea avevamo fissato per ieri per il 23 per il vertice della raccolta delle firme ed è del tutto evidente che questa storia non è finita ieri continuerà e allora noi dobbiamo continuare a fare pressioni verso i governi i parlamenti su questo ma dobbiamo continuare a far discutere l'opinione pubblica perché noi dobbiamo convincere la nostra gente sulla questione della BCE e allora io la cosa che vi chiedo è di proseguire nella raccolta di firme di far discutere di organizzare degli eventi in qualche modo dobbiamo aprire fare in modo che questa discussione sulla Banca Centrale Europea esca dalle stanze dove ne discutono gli economisti e tra gli economisti tutti oramai dicono che quella roba lì è l'unica strada o tra i finanziari ho visto che Soros si è pronunciato a favore di questo perché si rende conto che lui di soldi in qualche modo un po' se ne intende e quindi noi dobbiamo far uscire questo dibattito da questo livello degli economisti e per farlo entrare dentro la politica dobbiamo farlo diventare un dibattito tra la gente e allora vi chiedo di continuare per la petizione e di continuare a portare avanti questa battaglia politica come comunisti come sinistra qui il problema non è né il nazionalismo né il liberismo temperato del governo qui il problema è uscire dal liberismo con un intervento della Banca Centrale che permetta di avere quelle risorse che possono risolvere i problemi sul piano della sanità della tutela del reddito per chi sta perdendo il posto di lavoro e di una riconversione ambientale delle produzioni che è la strada che dobbiamo seguire grazie a tutti e tutte e buon 25 aprile grazie a tutti grazie a tutti